920 questo Pazzolo Pazzolo Eh? Ehi Jake, ciao Che c'è? Sto studiando, sono occupato Ma Che ti sei messo? Il The One Pazzolo, l'hanno smashato via Da da È arrivato E ora che risponderebbe anche il tuo di kimono Pazzolo Ancora fa prezzo di sudore Allora Abbiamo l'adattatore Per controller di YouTube Io non ne vedo Pazzolo ne ha costato uno Guardate questa scritta diabolica Un po' rassicurante Porto semplice Abbiamo due cavi Da collegare alla vostra Wii U E poi qui Inseriamo queste Ed ecco il gioco Apriamo Bello E vabbè qui la solita Guida rapida che fa la Nintendo E ora Amigo Sempre foglietti Istruzioni Non ve li siano Molto utili Questo sarà il nostro capitale amaro Bello E infine mi hanno regalato un'altra cosa Non disturbate sto giocando Ho inserizzata Nintendo Sì è una verità Ho speciato la direzione E ora di inizio è lo smash E smash sia Sì è una verità Grazie.